Queste anticipazioni di Endless Love si preannunciano cariche di colpi di scena. Io sono Isabella, e vi invito a rimanere incollati allo schermo fino all'ultimo secondo del video di oggi. Scoprirete scene talmente esclusive e rivelatrici che vi lasceranno a bocca aperta. Non dimenticate di iscrivervi al canale, per non perdere neanche un frammento delle nostre imperdibili anticipazioni. Nel cuore della notte, l'aria è tagliente e il silenzio regna sovrano. Interrotto solo dal lieve cigolio di una bicicletta che si muove lungo la strada deserta. Kemal tiene stretta la radio, il suo legame vitale con il resto della squadra. Con voce bassa ma ferma, si assicura che ognuno sia al proprio posto, ripetendo come un mantra l'importanza di non commettere errori. Allo stesso tempo, Zeyr si trova a casa di Zera, siede tranquillo sul divano, ma la sua mente è altrove, sintonizzata sul segnale di Kemal. Quando il telefono vibra, Zeyr capisce che è arrivato il momento di agire. Con una scusa ben congegnata, si alza e si congeda da Zera, parlando di un'improvvisa urgenza che richiede la sua attenzione. Ma Zera non si lascia ingannare. Non appena Zeyr varca la soglia, afferra il telefono con mano decisa e chiama Emir, avvisandolo del movimento sospetto di Zeyr verso l'ufficio. Sta cercando un documento importante, sussurra con voce carica di tensione. Emir, con la fronte corrugata dall'ansia, afferra il telefono dopo aver ricevuto la chiamata. La voce di Zera risuona ancora nelle sue orecchie, un presagio che non può ignorare. Comunica a Nihan la necessità di un'improvvisa visita in azienda per risolvere una questione che non ammette ritardi. Il suo sguardo è torbido, la preoccupazione è evidente mentre prende le chiavi e si avvia verso la porta. Nihan, rimasta sola, si ritrova immersa in un mare di dubbi. La sua mente corre veloce e con un sospetto che le morde il cuore, prende il telefono e compone il numero di Kemal. Emir è diretto in azienda. Le sue parole sono un sussurro carico di tensione. Kemal, dall'altra parte della linea, ascolta in silenzio. I suoi pensieri celati dietro una cortina di mistero. Non rivela nulla di quello che sta accadendo, mantenendo Nihan nell'ombra. Nihan confessa la sua tristezza per la loro imminente separazione. Kemal, con voce bassa ma intensa, le confessa di sapere che lei sta cercando di sfuggirgli, di scappare dalle grinfie di un passato che la perseguita. Promette che scoprirà tutto ciò che lei nasconde, un riferimento velato a Denise. Nel frattempo Emir si allontana, ignaro delle macchinazioni che si sviluppano nell'ombra. Kemal, con un cenno impercettibile, dà il via libera al suo team. Gli uomini in auto si attrezzano rapidamente, indossando maschere protettive per le vie respiratorie, un'immagine che evoca guerrieri moderni pronti per una battaglia silenziosa. Anche Ayyan segue il rituale, preparandosi per l'azione imminente. Si avvicinano furtivamente alla sorveglianza di Emir, mascherati da una squadra di disinfestazione, un inganno astuto per avvicinarsi senza destare sospetti. Nel cuore della notte, mentre il silenzio avvolge ogni angolo, il gruppo di Kemal mette in atto la fase cruciale del loro piano. Uno spray potente viene utilizzato con precisione chirurgica, diffondendo una nebbia che stende gli uomini di Emir, uno dopo l'altro. I corpi cedono al sonno forzato, collassando silenziosamente al suolo, lasciando il cammino libero per ulteriori mosse. Nel frattempo, Kemal, con la radio sempre in pugno, emette ordini precisi e calcolati. «Taglia la corrente», comanda all'informatico, che agisce con prontezza su un quadro elettrico nascosto nell'ombra. All'interno della casa, le luci si spengono improvvisamente, lasciando Nian avvolta nelle tenebre, ignara del pericolo che si insinua silenzioso. La casa di Emir ora giace immersa nel buio più completo. Solo la luce intermittente di una torcia rompe l'oscurità, mentre Kemal, il viso nascosto da una maschera, avanza cautamente. Ogni passo è misurato, ogni respiro trattenuto. La torcia illumina frammenti di realtà mentre si muove verso il suo obiettivo. Allo stesso tempo, Zeyr si dirige risolutamente verso l'ufficio di Emir. Quando apre la porta dell'ufficio, il cuore gli balza in gola al vedere Emir e Tufan che lo attendono, come pedine mosse da un giocatore invisibile. La sorpresa sul suo viso è solo una maschera. Un elemento di un teatro più grande. Fa finta di essere stato sorpreso, ma è esattamente dove voleva essere. Era tutto calcolato. Kemal aveva previsto che Zeyr avvisasse Emir, portandolo fuori da casa per lasciare il campo libero. Mentre la casa di Emir è avvolta nelle ombre della notte, una quiete quasi surreale si diffonde tra le mura. Nyan, nella stanza di Denise, culla delicatamente la bambina cercando di placare il suo lieve pianto. La tenerezza di questo momento contrasta con il caos silenzioso che si consuma all'esterno. Fuori dalla porta il cuore di Kemal batte forte mentre si avvicina alla stanza. Ogni passo è calcolato per evitare rumori, ma improvvisamente la radio alla sua cintura emette un suono stridente, un fruscio elettronico che taglia come un coltello la tranquillità della notte. Kemal si immobilizza, il respiro sospeso, sperando che il rumore non abbia tradito la sua presenza. Nyan, assorta nel tentativo di calmare Denise, sembra non notare l'intrusione sonora. Nel frattempo, nell'ufficio di Emir, Zeyr si trova di fronte a una serie di domande incalzanti. Emir, con lo sguardo acuto, interroga Zeyr sulle sue intenzioni. Cosa stavi cercando di rubare? La sua voce è un filo teso, carica di sospetto. Zeyr, abile nel manipolare le parole, risponde con disinvoltura che era lì solo per depositare alcuni documenti per conto di Kemal. Nonostante l'apparente spiegazione, Emir non si lascia convincere così facilmente e fruga tra i documenti. Nulla sembra fuori posto, ma la curiosità si trasforma in sospetto. «Perché sei entrato nel mio ufficio e non in quello di Kemal?» insiste Emir, la sua voce un sibilo nel silenzio. Zeyr, con un sorriso che nasconde più di quanto rivela, risponde con un tono quasi canzonatorio. «Devo aver confuso gli uffici?» una risposta tanto improbabile quanto audace. Quando Zeyr varca la soglia dell'ufficio, un sorriso compiaciuto sfiora le sue labbra. Tufan, con un gesto brusco, gli apre la porta per lasciarlo uscire. Emir, tuttavia, rimane avvolto nei suoi dubbi. Il sospetto che qualcosa non quadri lo tormenta. Emir afferra il telefono e compone il numero di casa. La sua voce è urgente, vibrante di ansia non celata, mentre chiede a Nian se a casa fosse tutto in ordine. Nian risponde che tutto è tranquillo, tranne per un'interruzione di corrente, un dettaglio che suona come un campanello d'allarme per Emir. Quell'informazione è la scintilla che accende una fiamma di preoccupazione. L'intuizione di Emir scatta, lucida e tagliente, spingendolo ad agire. Si precipita fuori, il passo rapido e determinato verso l'auto, mentre la mente corre verso casa, temendo ciò che potrebbe trovare. Zeyr, non appena lascia l'edificio aziendale, estrae il telefono e chiama Kemal con urgenza. Emir ha capito e sta tornando in fretta, avverte, la voce bassa ma carica di tensione. La notizia scuote Kemal, consapevole che ogni minuto ora conta più che mai. Nel frattempo, Emir, la furia che gli brucia nelle vene, tenta di contattare i suoi uomini. Ma il telefono squilla a vuoto, uno dopo l'altro. Tutti sono stati storditi dall'agente soporifero. La frustrazione lo assale mentre si rende conto che è solo in questa battaglia improvvisa. Senza perdere altro tempo, decide di chiamare direttamente il telefono di casa. La domestica risponde, la voce tremante di sorpresa. Emir, con tono imperativo, le ordina di riattivare immediatamente il generatore e di allertare la vigilanza. Qualcuno è entrato in casa, dice, la sua voce un miscuglio di rabbia e preoccupazione. Devo sapere chi è prima che sia troppo tardi. Nyan, con il cuore in gola, si accorge dell'arrivo di Eda nella stanza. Con uno sguardo che trasmette preoccupazione mista a rassicurazione, le chiede di restare con Denise, proteggendola da qualsiasi pericolo non specificato che possa celarsi nell'oscurità. La presenza di Eda le dona un barlume di speranza, un ancoraggio in una situazione sempre più caotica. Per un istante, Nyan crede di intravedere una figura mascherata a muoversi nell'ombra. Il cuore le salta un battito. Non può essere sicura di chi sia, dato il buio e la maschera che nasconde i tratti distintivi. Ma un sospetto comincia a germogliare nella sua mente. Potrebbe essere Kemal? L'incertezza la tormenta, lasciandola con più domande che risposte. Nel frattempo, Kemal, trovandosi in una situazione dove non può utilizzare la radio, apta per un messaggio silenzioso ma efficace. Digita rapidamente un messaggio per Ayan, chiedendogli di far suonare il clacson per distrarre. Il piano è semplice, ma potrebbe funzionare. Il suono del clacson squarcia la quiete della notte, facendo sobbalzare Eda. Curiosa e allarmata, si sporge dal balcone cercando di decifrare la fonte di quel rumore improvviso. Quell'istante di distrazione è tutto ciò di cui Kemal ha bisogno. Muovendosi con una velocità che sfida il silenzio, entra nella stanza e con mani sicure preleva un campione di DNA di Denise. La precisione del suo gesto è chirurgica e riesce a scomparire nell'ombra proprio mentre Eda, ancora confusa, rientra nella stanza. Poco dopo, il corridoio si anima nuovamente con l'arrivo di Vildan. Nyan le chiede di rimanere in camera con Eda e Denise. Restate qui, è più sicuro, le dice con voce che cerca di nascondere il tremore dell'ansia. Scendendo poi al piano inferiore per capire meglio la situazione, Nyan incontra la domestica, che le comunica con espressione frustrata di non essere riuscita a riattivare il generatore. Nyan interroga la domestica sulla posizione delle lanterne. La risposta è rapida e precisa. In sala da pranzo e in cucina. Armata solo della luce fioca del suo telefono, Nyan si muove con passo deciso attraverso il buio denso. Nel frattempo, Kemal, avvolto nelle tenebre come un predatore in attesa, osserva i movimenti di Nyan. Ogni suo passo è calcolato per evitare la scoperta, ogni respiro trattenuto per non tradire la sua presenza. Il pericolo di essere scoperto cresce con ogni secondo che passa, ma l'abilità di nascondersi che ha affinato negli anni, gli permette ancora una volta di sfuggire agli sguardi. Fuori, Emir raggiunge finalmente il confine della sua proprietà, il cuore battente non solo per la corsa ma anche per l'ansia di ciò che potrebbe trovare. Ayan, realizzando l'urgenza della situazione, tenta freneticamente di avvisare Kemal del ritorno di Emir. Ma con la radio spenta, Kemal rimane all'oscuro di quello che sta accadendo. Ayan passa al piano B, cercando di raggiungere Kemal attraverso il telefono, ma il tempo sembra correre contro di loro. Nel cuore della casa, la cucina diventa il palcoscenico di un confronto imprevisto. Nihan, sentendo un fruscio quasi impercettibile alle sue spalle, si gira istintivamente. Il suo cuore si ferma quando, nell'oscurità, vede la sagoma di Kemal emergere come un fantasma. Prima che possa emettere un suono, Kemal la blocca, la sua mano grande e forte sigilla la sua bocca. Con un sussurro carico di tensione, le ordina di rimanere silenziosa. Non fare rumore, le dice, la voce un filo sottile di calma e pericolo. Nihan, la voce tremante ma carica di un coraggio nato dallo stupore, affronta Kemal. Cosa ci fai qui? Sei impazzito? Kemal, con un tono che tenta di stemperare la tensione, cerca di giustificare il suo gesto estremo. Dal momento che stai cercando di allontanarti da me, ho pensato di farti una visita a domicilio, dice, cercando di avvicinarsi a lei con un'intimità forzata. Le sue labbra cercano quelle di Nihan in un bacio che è tanto una richiesta di perdono quanto un tentativo di calmare le acque agitate della loro relazione. Ma il suono lontano delle sirene annuncia che il tempo a disposizione è poco e si sta esaurendo velocemente. Fuori, nascosto nell'oscurità che avvolge la casa, Ayan rimane un testimone silenzioso dell'escalation. Cerca disperatamente di comunicare con Kemal via radio, ma ogni tentativo si scontra con il caos che si sta consumando all'interno e all'esterno della villa. Intanto, Emir, tornato tra le mura domestiche, chiama a gran voce Nihan. La sua voce, carica di disperazione e rabbia, risuona nei corridoi vuoti, un richiamo che sembra echeggiare contro ogni angolo. Nihan! Nihan! Le sue grida perforano il silenzio. Kemal, udendo le urla di Emir, capisce che il tempo è scaduto, la necessità di fuggire diventa impellente. Con un ultimo sguardo a Nihan, si volta e corre verso l'uscita più vicina. Emir, guidato dall'istinto e dalla rabbia, vede una figura scappare e non ha dubbi sulla sua identità. Si lancia all'inseguimento, i piedi che malapena toccano il terreno mentre si spostano con urgenza nel giardino. L'inseguimento raggiunge il suo apice quando entrambi gli uomini scavalcano il muro del giardino, le loro figure che si muovono con la velocità di chi lotta per la sopravvivenza. Emir, con un'ultima spinta di energia, raggiunge Kemal e, guidato dalla furia, gli sferra un pugno potente, convinto di aver colpito il suo avversario nel cuore della notte. E mentre Emir ritrae il pugno ancora vibrante per il colpo appena sferrato, realizza con stupore che l'uomo di fronte a lui non è Kemal, ma uno degli uomini di Ayan, il viso ancora nascosto dalla maschera. La confusione si dipinge sul suo volto mentre cerca di comprendere l'errore appena compiuto. Dall'ombra, come un fantasma che prende forma nella realtà, emerge Ayan. La sua presenza rivela una trama ben più intricata di quanto Emir avesse immaginato. Emir, con il volto segnato dalla tensione e dalla sorpresa, fissa Ayan cercando di leggere tra le linee di un copione non scritto. «Cosa vuoi davvero?» La domanda è un filo di voce nel vento notturno mentre cerca di mascherare la sua incertezza con una sfumatura di accusa. Sottolinea come gli intrighi e i dispetti tra le loro famiglie abbiano creato un terreno fertile per malintesi e ostilità tentando di distogliere l'attenzione dal ruolo di Kemal in tutto ciò. Ayan, tuttavia, non è uomo da lasciarsi intimidire facilmente, con uno sguardo che non lascia spazio a dubbi sulla sua determinazione risponde con fermezza, la sua voce un misto di minaccia velata e controllo glaciale. Se continui a darmi fastidio e soprattutto se ti azzardi a coinvolgere Leila sai bene di cosa sono capace. Le parole di Ayan sono un chiaro avvertimento, la promessa di una reazione devastante se le sue avvertenze saranno ignorate. La calma con cui pronuncia queste parole rende il tutto ancora più inquietante. Kemal guida la sua moto lungo le strade deserte, il rombo del motore un ruggito trionfante nell'aria fresca della notte. La soddisfazione per il compito compiuto lo avvolge come un mantello. La sensazione di essere finalmente vicino a scoprire la verità gli infonde un senso di potere che non provava da tempo. Perché Mal l'orizzonte di vittoria è ormai chiaro e niente sembra poterlo fermare. Parallelamente Zeir con passi decisi e il cuore pesante si avvia verso la casa di Zera. La risoluzione di porre fine alla loro relazione lo ha consumato per giorni. Ora finalmente è pronto a chiudere quel capitolo doloroso. Con un misto di dolore e determinazione le comunica in modo irrevocabile che non desidera rivederla chiudendo la porta alle spalle di una storia segnata da tradimenti e inganni. Intanto Nyan tornata alla sicurezza della sua camera culla dolcemente Denise cercando di trovare pace nei gesti materni. posa la piccola nella culla sperando che il sonno le porti tranquillità tuttavia mentre il suo sguardo vaga distrattamente nella stanza si ferma su un'impronta lasciata sul tappeto il cuore le batte forte la presenza di Kemal in quella stanza diventa un enigma che la tormenta. Che cosa cercava? Qual era il suo scopo? La mattina seguente Kemal con un misto di ansia e determinazione si reca in laboratorio per eseguire il test del DNA una ciocca di capelli di Denise è tutto ciò che serve per forse chiudere il cerchio di domande che lo hanno perseguitato mentre lascia il campione sa che l'attesa dei risultati sarà lunga e piena di tensione. Emir accompagna Nyan e Denise prima che Nyan e la piccola si allontanino Emir con un tono basso e urgente le ricorda di mantenere segreta la loro destinazione ricorda nessuno deve sapere dove stai andando tranne me le dice Nyan con la stessa determinazione che ha sempre caratterizzato la sua figura lo guarda negli occhi e risponde con fermezza non sto scappando solo da te Emir ma da tutto quello che la mia vita è diventata le parole sgorgano cariche di una risolutezza che non ammette repliche Emir per un momento sembra ignorare il peso delle sue parole lasciandosi trascinare dai suoi sentimenti e le confessa nuovamente il suo amore ti amo Nyan dice quasi sperando che quelle parole possano alterare la realtà del loro distacco una settimana si snoda lenta e carica di attesa Kemal trovandosi nella solitudine contemplativa del suo posto preferito vicino al mare riflette sul turbolento viaggio emotivo che lo ha legato a Nyan il fruscio delle onde fa da sottofondo ai suoi pensieri tumultuosi con il cuore che batte a ritmi frenetici tiene tra le mani la busta contenente i risultati del test del DNA l'attesa è stata un tormento ogni giorno un passo in più verso una verità che potrebbe cambiare tutto prima di aprirla Kemal chiude gli occhi e invoca un silenzioso aiuto divino prega perché la verità sia dalla sua parte che Denise possa essere confermata come sua figlia è un momento di vulnerabilità profonda un uomo che si trova di fronte al potenziale di una rivelazione che potrebbe riportare un frammento di luce nella sua vita o spezzargli il cuore definitivamente con un respiro tremante rompe il sigillo della busta mentre estrae i documenti i suoi occhi scansionano rapidamente le parole cercando la conferma che ha tanto desiderato il momento è cruciale un punto di svolta che segnasi alla fine di un'attesa che l'inizio di una nuova fase della sua vita qualunque essa sia estrae il foglio con cautela quasi temendo che i suoi sogni possano essere infranti con una sola occhiata ma quando i suoi occhi colgono il risultato un'ondata di emozioni lo travolge Denise è sua figlia la realtà di quelle parole lo colpisce con la forza di un uragano lasciandolo senza fiato nel culmine di un'emozione travolgente Kemal scoppia in lacrime il suo viso solcato dalle lacrime di gioia e incredulità si alza verso il cielo mentre grida il nome di Nian lasciando che il suo urlo si perda tra le onde del mare Nian la sua voce è un misto di trionfo e dolore un grido che porta con sé il peso della lotta e la dolcezza e la dolcezza della vittoria il cuore di Kemal è un tumulto di gioia e paura realizzando pienamente il significato di quella scoperta vuole condividere questo momento con Nian condividere la gioia che gli riempie l'anima afferra il telefono il desiderio di sentire la sua voce che brucia forte dentro di lui ma il destino sembra giocare ancora con i suoi fili il telefono di Nian è spento un muro silenzioso tra loro in questo momento cruciale frustrato ma non sconfitto Kemal lascia che i ricordi di Denise di ogni sorriso e ogni sguardo inconsapevole lo inondino il bisogno di esprimere la sua tempesta interiore lo spinge a urlare di nuovo uno sfogo grezzo e potente che risuona desolatamente lungo la spiaggia deciso chiama Leila lei risponde la sua voce calma una lieve consolazione sto per uscire dice ignara dell'urgenza che arde in Kemal ma lui con la voce carica di un'emozione che non riesce a contenere la supplica di aspettarlo resta per favore arrivo subito la sua richiesta è un misto di preghiera e comando Kemal sale in auto il cuore gonfio di un'anticipazione quasi infantile ogni fibra del suo essere vibrante di energia rinnovata con la scoperta fresca nel cuore e la speranza che si rinnova ad ogni battito si precipita verso casa di Leila pronto a condividere la notizia nell'intimità silenziosa di una baita isolata Nian si rifugia nelle pagine del suo diario tracciando le linee della sua vita turbolenta con una penna che sembra pesare ogni parola mentre le sue dita scorrono su carta il pensiero di Kemal le accarezza la mente non so quando gli darò questo diario scrive il cuore pesante per la distanza la sua voce gli manca terribilmente una settimana di silenzio che pesa come un'eternità la separazione è stata necessaria un passo indietro per respirare per cercare un frammento di pace dopo le tempeste che hanno scosso il suo mondo allo stesso tempo Kemal con l'anima carica di una notizia rivoluzionaria arriva a casa di Leila la porta si apre sul suo volto agitato il respiro affannato testimonia la corsa emotiva e fisica che ha compiuto per arrivare fin lì Leila vedendolo così si preoccupa immediatamente cosa è successo Kemal chiede la sua voce un misto di ansia e curiosità Kemal superando le convenzioni di un saluto formale entra precipitosamente porgendole i risultati del test del DNA leggi dice con una voce carica di urgenza Leila prendendo i documenti con mani tremanti resta scioccata nel vedere confermata la paternità di Kemal la rivelazione le fa battere il cuore forte mentre Kemal si avvicina alla finestra il suo sguardo perso oltre il vetro i pensieri si affollano freneticamente nella sua testa già proiettati verso il futuro deve trovare un modo per riconquistare Nian e Denise per riportare nella sua vita quelle presenze indispensabili Leila ancora incredula cerca di comprendere come mai non si sia mai accorta di nulla come ha fatto Nian a nasconderci una cosa così importante si interroga ad alta voce confusa e un po' ferita Kemal si volta il volto teso Nian sapeva tutto risponde se me lo avesse detto sarebbe stato difficile per lei tenerlo nascosto da me la complessità dei loro rapporti e dei segreti condivisi si dipana in quelle parole cariche di implicazioni Che cosa succederà ora? Leila chiede infine la domanda sospesa tra loro come una spada di Damocle Kemal con gli occhi che riflettono determinazione e una traccia di speranza risponde Farò tutto ciò che è necessario per riavere loro nella mia vita Non importa cosa ci vorrà non mi fermerò finché non avrò sistemato le cose Denise è mia figlia e avevo tutto il diritto di saperlo Leila cercando di portare un barlume di comprensione in una situazione tanto carica di emozioni tenta di difendere Nyan Forse lo ha fatto per paura suggerisce delicatamente per proteggere Denise Kemal scuote il capo rifiutando categoricamente di accettare quella spiegazione Non poteva proteggerla da sola insiste la voce rotta dall'emozione Mi ha tolto il diritto di amare mia figlia di essere un padre per lei E ora come posso perdonarmi per tutto il tempo che ho perso per non essere stato lì per lei quando avrei potuto Le lacrime che gli rigano il viso sono testimonianza del tormento interiore che lo consuma Kemal ripensa a tutti i momenti passati con Denise a ogni sorriso a ogni sguardo che ora assume un significato completamente nuovo Ogni volta che guardavo negli occhi di Denise sentivo che c'era qualcosa di speciale confida a Leila la sua voce un sussurro carico di rimpianto e ora so perché era il legame di sangue che ci univa un legame che mi è stato negato fino a questo momento Mentre Leila ascolta non può fare a meno di sentire il peso della situazione il dolore di un uomo a cui è stata negata la gioia e la responsabilità della paternità fino a quel momento rivelatore Kemal con il cuore spezzato ma determinato si rende conto che non ci sarà pace fino a quando non avrà ripreso il suo posto nella vita di Denise fino a quando non avrà riconquistato il tempo perduto con sua figlia e forse con Nian Kemal devi capire che Emir è una persona spietata insiste Leila cercando di aprire una finestra di comprensione nel cuore tormentato dell'uomo ha minacciato Nian in passato non possiamo sapere fino a che punto si è arrivato per costringerla a mantenere il silenzio le sue parole sono cariche di un'urgenza mista a preoccupazione un tentativo disperato di giustificare le azioni di Nian poi Leila con una voce più dolce lo esorta a cercare un confronto diretto con Nian parla con lei Kemal ascolta la sua versione dei fatti prima di prendere qualsiasi decisione queste parole sembrano toccare un nervo sensibile in lui facendolo vacillare nella sua risoluzione di rabbia forse hai ragione dovrei sentire cosa ha da dirmi concede infine il viso che si ammorbidisce leggermente in un cambio di atteggiamento Kemal si rivolge a Leila con un nuovo senso di urgenza mi aiuteresti a trovare dove si trova Nian chiede la voce ora carica di una determinazione focalizzata Leila comprendendo l'importanza del momento accetta senza esitazione certo farò tutto il possibile nel frattempo in una baita remota Nian tiene Denise tra le braccia ignara che Kemal abbia scoperto la verità il rumore improvviso di un'auto che si ferma all'esterno la spinge ad agire distinto nasconde il diario dietro i cuscini del divano un gesto rapido e carico di ansia mentre Emir entra in scena perché sei qui chiede Nian il tono carico di sorpresa e cautela Emir con un'espressione persa e vulnerabile risponde con una sincerità inaspettata mi sentivo perso avevo bisogno di vedere te e Denise la sua voce insolitamente tenera mostra un lato di lui che Nian non aveva visto da tempo contemporaneamente Leila chiama sua sorella Vildan sperando di ottenere informazioni su Nian Vildan sai dove si trova Nian ma la risposta di Vildan è un muro di riservatezza no mia figlia ha scelto di non dirmi nulla rivela dopo aver appreso che Emir è in viaggio per raggiungere Nian Leila si sente sconvolta il peso delle notizie la sovrasta la conversazione con Vildan termina lasciando una nube di incertezza non so dove sia Nian ma Emir è partito per raggiungerla confessa a Kemal la preoccupazione evidente nel suo sguardo Kemal ascolta la mente che lavora freneticamente qualcosa non torna e il bisogno di agire si fa pressante con una decisione rapida decide che deve trovare Emir per poter localizzare Nian la situazione potrebbe essere pericolosa ma la necessità di confrontarsi con Nian e rivelare la verità su Denise lo spinge oltre la paura devo andare dice a Leila la determinazione chiara nella sua voce troverò Nian e parlerò con lei da solo prima di lasciare la casa di Leila si ferma un momento ricordandosi dei problemi legali che Emir ha causato facendo credere a Leila di averle pagato quando non era vero non preoccuparti per la questione del pagamento la rassicura i miei avvocati si occuperanno di dimostrare che è stato un inganno di Emir con quella promessa si precipita fuori intanto nella baita isolata Emir cerca di avvicinarsi emotivamente a Nian parlando di Denise e del suo amore per lei ti amo e amo Denise dice con una voce carica di emozione ma Nian con un viso impassibile e una voce ferma risponde non credo che tu sia capace di amare Emir la sua risposta taglia l'aria come una lama chiara e definitiva Emir colpito dalle parole di Nian ma non dissuaso riprende il tono più deciso non importa cosa tu pensi di me l'importante è che posso essere con Denise anche se decidi di allontanarti la sua dichiarazione non nasconde l'egoismo delle sue intenzioni per lui la presenza nella vita di Denise è un desiderio che trascende il rapporto con Nian Emir esprimendo il suo desiderio di rimanere per la notte chiarisce che la sua priorità è riposarsi prima di affrontare il viaggio di ritorno Nian chiaramente infastidita dalla prospettiva di condividere ulteriormente il suo spazio con Emir insiste affinché se ne vada immediatamente preferirei restare da sola ribadisce ma Emir troppo stanco per considerare un'altra opzione si mostra irremovibile altrove un altro dramma si svolge con Zeynep che torna dalla sua titolare piena di entusiasmo per un nuovo progetto dedicato ai bambini tuttavia l'incontro prende una piega inaspettata quando la donna le comunica che il loro rapporto lavorativo è giunto al termine presentandole una busta con lo stipendio dell'ultimo mese la titolare spiega senza lasciare spazio a repliche che non ci sono più opportunità per lei all'interno dell'organizzazione nonostante gli sforzi di Zeynep di giustificare i recenti problemi che potrebbero aver influenzato il suo lavoro la decisione è definitiva e irrevocabile Zeynep affranta si allontana lasciando il suo sogno e il progetto non realizzato alle spalle nel frattempo Kemal sta attendendo notizie da Zeyhir che era stato incaricato di scoprire il luogo dove Emir potesse aver portato Nian e Denise quando Zeyhir torna a mani vuote l'ansia di Kemal cresce non abbiamo trovato tracce di Emir riporta Zeyhir il volto teso per la frustrazione di una missione fallita come dobbiamo procedere chiede Zeyhir la sua voce riflettendo l'urgenza della situazione Kemal dopo un momento di riflessione in cui i pensieri si rincorrono freneticamente ha un lampo di intuizione c'è solo una persona che potrebbe sapere dove sono dice determinato l'idea chiara nella sua mente con nuova energia decide di contattare questa persona sperando che possa essere la chiave per riunirsi con Nian e Denise Banu nervosa e preoccupata è al telefono discutendo con una persona riguardo a un mancato pagamento una somma mai ricevuta in banca Feime rientrando in casa la coglie in flagrante mentre invia un messaggio vocale Banu senza nominare Emir parla in termini vaghi ma Feime intuisce che c'è qualcosa di non detto nell'aria Feime con un occhio clinico per i dettagli che non sfuggono a una madre finge di non notare nulla quando Banu la scorge poco dopo la routine familiare è interrotta dall'arrivo inaspettato di Tarik che torna a casa prima del previsto a causa di un incidente con del caffè rovesciato sulla sua giacca distrattamente passa la giacca macchiata a Banu chiedendole di procurargliene una pulita e si dirige verso la cucina dove trova sua madre Feime assicurandosi che Banu sia fuori portata ad orecchio Feime approfitta del momento per interrogare Tarik sulle attività di Banu ha trovato lavoro? chiede cercando di capire meglio la situazione Tarik tuttavia nega ma confida di averla sentita parlare di pagamenti Feime con un misto di irritazione e preoccupazione lo rimprovera per aver messo in dubbio il suo udito e lo incita a concentrarsi più su Banu spinto dai dubbi crescenti e dalle preoccupazioni materne Tarik decide di investigare ulteriormente ritorna in camera sua e una volta indossata una giacca pulita si avvicina a Banu con una scusa ha bisogno di fare una chiamata e il suo telefono è scarico con una gentilezza forzata chiede a Banu di lasciare la stanza promettendo di restituirle il dispositivo immediatamente dopo una volta solo Tarik accende rapidamente il telefono di Banu il suo sospetto si intensifica quando scopre che Banu ha cancellato tutte le tracce sul telefono questa scoperta non fa altro che alimentare i suoi dubbi convincendolo che c'è qualcosa di più grande e forse più sinistro dietro il comportamento di Banu mentre Kemal e Ayan arrivano al garage che Emir frequenta regolarmente il rapporto tra Ayan e il meccanico si basa su una fiducia consolidata nel tempo una connessione che ora Kemal spera di sfruttare a suo vantaggio con un tono serio e determinato si rivolge al meccanico ho bisogno di sapere dove si trova il veicolo di Emir L'uomo al primo momento esita conscio delle implicazioni di una tale richiesta non posso fare una cosa del genere afferma il viso segnato dall'apprensione tuttavia di fronte all'insistenza di Ayan e alla promessa di discrezione il suo atteggiamento cambia lentamente dopo qualche momento di riflessione accede alla richiesta avviando il computer per rintracciare la posizione del veicolo di Emir con un'abilità che testimonia la sua esperienza localizza il veicolo e passa le coordinate a Kemal ecco dove si trova dice spostando lo schermo verso di loro grazie ti sono davvero grato esprime con sincerità prima di voltarsi per andarsene Ayan tuttavia lo afferra per un braccio lo sguardo carico di preoccupazione non essere troppo precipitoso Kemal questa situazione è molto delicata lo avverte consapevole degli ostacoli che potrebbero attendere l'amico Kemal annuisce ma la determinazione nei suoi occhi non vacilla devo farlo Ayan devo riprendermi la mia famiglia risponde la voce ferma e decisa Ayan vedendo la risolutezza dell'amico cede e se trovi Emir lì? chiede preoccupato per un possibile confronto Kemal già preparato a questa eventualità ha elaborato un piano per assicurarsi che Emir sia costretto a ritornare in azienda ho già pensato a come tenerlo occupato lontano da Nyan spiega mostrando di aver considerato ogni possibile complicazione convinto dall'ingegnosità del piano di Kemal Ayan accetta di prestargli la sua macchina per mantenere un basso profilo usa la mia auto e chiamami se hai bisogno di qualsiasi cosa offre generosamente con un breve con un breve cenno di capo Kemal salta nella macchina di Ayan mettendo in moto con un ruggito deciso del motore la strada davanti a lui ora non è solo una via asfaltata ma il percorso verso un confronto che potrebbe cambiare la sua vita è quella di Nyan e Denise Siete curiosi di vedere cosa succederà nella seconda parte del video? Se volete scoprirlo fatemelo sapere scrivendo seconda parte nei commenti qui sotto non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdere nessun aggiornamento Io sono Isabella e vi aspetto nel prossimo video per continuare questa avventura insieme e vi aspetto